Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio e grazie, ero a piazza del popolo, stavate qua, ho sbagliato piazza, eravate… grazie davvero a tutti e io vi ringrazio perché vi abbiamo convocato 20 ore fa, soltanto il Movimento 5 Stelle ha questa capacità e questa possibilità, siete imprescindibili, in maniera molto onesta vi diciamo che noi da soli non ce la facciamo, non ce la facciamo, è impossibile, quindi grazie, grazie a tutti i parlamentari del Movimento, li vedo dovunque, è stato un onore questi 5 anni combattere con tutti voi, è stato un onore, mi sembra di rivivere le giornate di Rodotà quando per ostacolare il cambiamento per la prima volta nella storia della Repubblica italiana questi miserabili hanno rieletto per la seconda volta lo stesso Presidente della Repubblica Napolitano, uno dei massimi responsabili dei disastri che sono stati in casa, in 5 anni hanno fatto soltanto una cosa, non è che hanno contrastato la mafia, la corruzione, non si sono occupati della povertà e di tutto quel che comporta, non hanno contrastato gli effetti veramente miserabili di quel che avviene all'interno della sanità pubblica con la corruzione, la parte dei partiti politici della sanità pubblica, non si sono occupati di nulla di tutto questo, si sono occupati esclusivamente del Movimento 5 Stelle, di come ostacolarli e questo a me mi inorgoglisce pure, perché se questi miserabili, se questi fuori legge a norma di legge si occupano o solo e esclusivamente del Movimento è perché hanno paura e fanno bene ad avere paura, perché siamo non violenti, perché hanno violenza non contatto un valore etico, ma una strada che ci porterà risultati, siamo non violenti ma non siamo coglioni, per cui la mobilitazione contro questi farà tutti comincia oggi ma non finisce oggi, comincia oggi, la mobilitazione comincia oggi e domani a 1.30 rispiamo qua, domani a 1.30 e tutti i giorni necessari, perché la devono finire, la devono finire, ora, fuori la nata dallo Stato, 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 fuori Stato, fuori la nata dallo Stato, fuori la nata dallo Stato, fuori la nata dallo Stato, vorrei poi dire, scusate, ho poca voce, vorrei dire che ci dobbiamo pure guardare in faccia, evidente che qua siamo scesi in piazza, però se ci calpestano sempre, perché gli abbiamo dato qualsiasi possibilità di calpestarci, se gliele continuiamo a lasciare passare tutte, ci continueranno a passare sopra senza, non si fanno scrupoli, è gentaglia, è gentaglia che vuole soltanto reiterare il potere e ora che hanno paura provano con questi stratagemmi o scene appunto di salvaguardarsi e di autotutelarsi, l'abbiamo sempre detto sapete come sono fatti, ora è bene fare una cosa, tutti noi dobbiamo essere super informati perché poi la logica del sistema è disinformarci e poi colpire l'istruzione pubblica perché un popolo di ignoranti è più facilmente manipolabile da questi malfattori, noi dobbiamo distinare del tempo quotidiano la controinformazione, dobbiamo controinformare, andare nel vint al vicino di casa, fare comizi sul pianerottolo di casa, bypassare, poi andiamo anche in televisione, lo vedete lui ci va uno contro sedici, la prossima volta faranno il prossimo ragazzi. Ma tanto l'incarca tutti l'incarca, dobbiamo fare questo, è necessario e dobbiamo spiegare con calma, con calma a coloro che pensano che sono tutti uguali, a coloro che pensano ma tanto non ci sarà nulla da fare, questi sono i principali alleati del sistema, i fatalisti, quelli che si lamentano soltanto ai bar la mattina, basta, io non sopporto più coloro che si lamentano ai bar la mattina, basta, gli dobbiamo far capire con calma quel che è successo, lo ripetiamo, nel 2005 il centro-destra approva una legge talmente porcata che la chiamano Porcelli, la prima firma Calderoli se non sbaglio della Lega, una legge incostituzionale attraverso la quale sono stati votati, eletti, nominati tre parlamenti, nel 2006 che vinse le elezioni se non sbaglio il centro-sinistra, nel 2008 che vinse le elezioni il centro-destra e nel 2013 noi abbiamo addirittura prima di entrare in Parlamento proposto delle modifiche alla legge elettorale con via i condannati, due mandati e poi a casa e i due mandati resteranno perché la politica a questo deve essere, una missione fatta a tempo determinato perché meno tempo ci sta in quel palazzo e meglio è, noi siamo entrati in Parlamento nel 2013 dicendo da anni che quella legge era incostituzionale e con sentenza numero 1 del 2014 la Corte Costituzionale boccia la legge porcata del Porcelli e chi vota contro bocciandola anche il Presidente l'attuale della Repubblica Mattarella che all'epoca era giudice della Corte Costituzionale un Paese si trova quindi di fatto senza legge elettorale, che cosa fa il centro-sinistra? Si indenta l'Italicum e qualcuno diceva favorisce il movimento, ma lo volete capire che esistono dei cittadini per bene in questo Paese e prima di pensare alla convenienza personale pensano alla convenienza relativa alla collettività, al bene collettivo del popolo italiano, questo siamo, tanta pazienza, questo siamo, si inventano l'Italicum, altra legge che per noi era incostituzionale e noi votiamo contro e per farla passare questi miserabili gli mettono la fiducia, magari non tutti sanno che significhi la fiducia, porre la questione di fiducia significa che il governo dice questa legge è così bella, giusta, perfetta che io mi ciccioco la faccia, metto la fiducia, se non passa la legge il mio governo cade, l'hanno messa e mai era successo, a parte l'abbiamo detto durante il fascismo e con la legge truffa che mettessero la fiducia su una legge elettorale perché è una materia sulla quale non si può ostacolare il dibattito perché riguarda le regole, riguarda le regole, è come comprarsi un arbitro in una partita di calcio e basta, mettono la fiducia, quindi il governo ci si gioca la faccia, basta quella legge perché questo Parlamento è composto essenzialmente da nominati, eletti con il Porcellum, qui alla Camera dei Reputati, il Movimento ha preso più voti del PD, ma siamo la metà in virtù di quel premio di maggioranza del Porcellum giudicato illegale, Truppaldino, è tutta una truppa e dobbiamo spiegarlo con calma perché è tutta una truppa, sono fuori legge a norma di legge, ma se restano fuori legge, comunque l'Italicum viene bocciato, anzi prima viene firmato dal Presidente Mattarella che ha commesso un errore firmando quella legge perché quella legge è stata poi successivamente bocciata in gran parte dalla Corte Costituzionale, la quale comunque bocciando le parti incostituzionali del Porcellum ha garantito chiaramente l'esistenza di una legge elettorale quantomeno legale che garantirebbe un premio di maggioranza alla forza politica che arriva al 40% e noi abbiamo questa possibilità e per quello che hanno paura che quantomeno era legale, costituzionale, no, tra l'altro chi era il relatore dell'Italicum? Fiano, chi è l'attuale relatore di questa portata? Fiano, guardate che è incredibile, vedete bene quel che fanno, quanto sono capaci di fare distrazione di massa, questi si occupano del fascismo del ventennio, dei monumenti del ventennio, dei retaggi di un fascismo morto e sepolto perché hanno paura che i cittadini si dedichino ad abbattere i monumenti del fascismo presente che sono quelli che stanno lì dentro. Che cos'è oggi il fascista? È l'omologazione, è il pensiero dominante, è il sistema mediatico interconnesso con il capitalismo finanziario, è la partidocrazia, è la nomina dei parlamentari da parte dei partiti politici i quali a loro volta dipendono dalle lobby che li finanziano per cui un parlamentare non risponde al popolo italiano ma risponde alla lobby che finanzia il partito politico che li nomina. È molto chiaro questo ragionamento e abbiamo il dovere di spiegarlo casa per casa, con la rete, facendo video, con comizi veramente da ovunque e questo abbiamo fatto quando non eravamo niente, quando neanche pensavamo di poter entrare nel palazzo perché era soltanto una proprietà privata, una cosa a loro. Noi non credevamo di riuscirci e ce l'abbiamo fatta. Pensavamo anche di non riuscire a vincere quel referendum costituzionale e gli abbiamo fatto un culo così con un motorino tra direzionale. quindi dobbiamo avere non la speranza che è una fregatura la speranza, ma la certezza che se siamo tanti, se cresciamo, che l'unica cosa per farci crescere anche in piazza è anche uno spirito di condivisione. Qua partecipare è il miglior modo di dire in un paese dove parlano tutti, ma partecipano in pochi. Partecipare, esserci è il miglior modo di dire. Si arriva mesi fa di una legge elettorale sulla quale noi certo c'eravamo, era una legge che poteva essere costituzionale e anche per spuntare le palle, dicono ma anche la passata legge, il modello tedesco, c'era i nominati, ma un po' di onestà intellettuale, lo dico a giornalisti, un po' di onestà intellettuale, ma il Movimento l'ha presentato o no la proposta per inserire le preferenze in quella legge, neanche ce l'hanno fatta votare perché? Perché il PD che non vuole non una legge a favore dei 5 Stelle, non vuole una legge a favore di nessuno, cioè quella legge era una legge che non favoriva la legge a destra e a sinistra dei 5 Stelle, per quello l'hanno bocciata, trovando come pretesto quell'emendamento sul Trentino 8a, dice che prevedeva soltanto l'applicazione della legge in tutta Italia, anche il Trentino 8a, dice, può essere questa una ragione per farla cadere? No, avevano già in mente questa porcata chiaramente, lo fanno e noi abbiamo il dovere di spiegarlo, oggi succede questo e rimettono la fiducia perché hanno paura di non controllare alcuni parlamentari del PD, da questi un po' di orgoglio, un po' di dignità la possono tirare fuori, anche perché Renzi non li ricandida, non li ricandida, io mi auguro che possa succedere qualcosa perché ci sarà un unico voto, un voto segreto domani e comunque la capacità di intervenire in quel palazzo è interconnessa con la capacità di indignarsi e di partecipare da parte del popolo italiano, i diritti non sono qualcosa che ci regalano o che piovono dal cielo, in questo Paese i diritti ci dobbiamo andare a prendere di persona in piazza perché sono cose nostre, sono cose nostre, non ti regalano niente in questo Paese, quindi dobbiamo andare a prendere di persona, diritti di tutti, ma che vogliamo, ma che vogliamo, non tanto che i cittadini, perché io prima di essere un parlamentare sono cittadini italiani, abbia la possibilità di scegliersi i propri rappresentanti dentro le istituzioni, ma vi rendete conto tutto quel che sta accadendo, questo vogliamo e ce la possiamo fare, io giudico anche queste indecenze che fanno come enormi segnali di debolezza, il sistema più è debole, più ha paure, più si arrocca e più fa indecenze, è normale, se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle non si sarebbero palesati come si stanno palesando, lo vedete, dopo fidanzamenti per anni tenuti nascosti tra falsa destra che approva la creazione di Equitalia e falsa sinistra che approva l'abolizione dell'articolo 18, si sono palesati e si stanno sposando alla luce del sole e mi meraviglia Salvini, Salvini che per 5 anni ci ha rotto i coglioni con le rusche, con le tente, con l'antisistema, questa vergogna che ti è venduto per quanto costa in più come steggio di fatto concedendo lo scelto di comando al pregiudicato per Rusconi di quale già c'è l'accordo col Partito Democratico, ti rendete conto la lega degli antisistema, i domani glielo diciamo in anni, il meraviglio di loro che parlano di legalità va cambiata la partitocrazia e poi scendono a patti con Renzi e Berlusconi in questo modo indesceni, questo è il discorso, lo vedete, noi di più non possiamo fare, ci vogliono sollevazioni non violente da parte del popolo italiano e ci vogliono piazze come questa favolosa, convocata in 20 ore, lo dico qua a tutti gli amici della barca ostentata e domani faremo di più perché questa è la versione un'onda capace di montare, perché se riusciamo a farla montare si creano delle pressioni e forse avremo una possibilità per dare un briciolo di legalità in questo paese purtroppo dilaneato dalla corruzione e dall'illegalità e non hanno fatto, prima gridavate fuori la mafia dallo Stato, mafia e corruzione sono interconnesse, un tempo i mafiosi si pagavano, si compravano i politici, oggi li formano direttamente i loro uomini e li piazzano direttamente all'interno dell'istituzione e per quello non viene fatta una legge anticorruzione perché oggi la corruzione è l'arma principale in mano alle coste, l'arma principale in mano alle coste, io veramente vi ringrazio, io sono fiero e orgoglioso di essere italiano e di aver combattuto come abbiamo combattuto questi 5 anni, ma oggi che questa piazza sembra appunto quella di 5 anni fa, di Rodotà e di Napolitano purtroppo, oggi dobbiamo capire che se riusciamo a mantenere alta l'attenzione e a continuare con questa mobilitazione c'è una possibilità, io credo che una possibilità ci sia, si vede, si vede, tante persone stanno aprendo gli occhi e questo gli fa paura, qualcuno dice ah così ci allontano dalla politica con queste leggi, ma lo capite che l'obiettivo è proprio questo per loro, ci sono partiti politici che possono comunque contare su pacchetti di voti da parte di persone che campano con il sistema, che campano con il sistema partitocratico, per cui coloro che si astengono fanno il più grande regalo a coloro che vorrebbero buttare fuori le palazzi e li dobbiamo convincere con calma, facendogli aprire gli occhi e invitandoli in piazza a partecipare con noi, l'abbiamo sempre fatto e ci dovrebbero tutti ringraziare perché non c'è mai stato un incidente quando scende in piazza il Movimento 5 Stelle, abbiamo incanalato una rabbia sana in un percorso democratico di partecipazione, io vi dico che ti voglio e te che ci siamo comportati bene in questi anni, ci siamo comportati bene, guardateci siamo tutti a testa alto, non abbiamo mai paura di scendere in piazza perché quando fai il tuo dovere non hai nessun timore di scendere in piazza, gli abbiamo fatto il nostro dovere, oggi il proprio dovere lo deve fare il popolo italiano perché qua si vede se esiste un popolo capace di protestare sul serio quando vengono provati i diritti e non soltanto quando sbaglia un cambio avventura il tecnico della nazionale italiana. Quanti vede il popolo? Quanti vede? Grazie. Ce la possiamo fare e le faremo tutte, ce la possiamo fare, cerchiamo di vivere con la certezza che se alziamo la testa questi non ce la passano più. Vi ringrazio di cuore e vi lascio adesso al vostro candidato, alla presidenza del tuo figlio, Luigi Di Maio. Grazie a tutti.